stress devi nasconderti all'infinito eri anche una pippa a fare il ribelle allora qui in chat hanno scritto la ship che è molto interessante paghico? no, ci caga beh idiota ci caga cagaci ci cagone ci cagone dai che scringe e poi dimmi un altro un altro di tuoi allora guardali qua secondo me è quello che sta un po' più iperattivo oggi il vecchio